va bene allora partiamo con l'introduzione al nuovo argomento che è quello dell'unità 6 liste e tabelle partiamo con le liste che sono una struttura dati nuova rispetto a quelle che conosciamo però scopriremo che molte cose già le conosciamo già le sappiamo fare perché in qualche modo imparentata con le stringhe questi sono gli argomenti che tratteremo in questa unità questo argomento liste e tabelle è un argomento che ci terrà compagnia per tre settimane questa settimana la prossima in cui faremo via via vedremo i vari argomenti e quella ancora successiva di consolidamento in cui faremo esercizi riepilogativi eccetera è un argomento di per sé come come abbiamo cominciato a vedere questa informatica non ci sono tantissime cose dei pacchi di cose da studiare sono pochi concetti che però si mescolandosi con gli altri creano la possibilità di fare esercizi più complessi e quindi la difficoltà è quella di riuscire a digerire i concetti ma soprattutto di metterli in pratica quindi per questo è un salto in avanti qualitativo abbastanza diciamo così significativo e quindi ci dedichiamo il tempo che ci vuole tre settimane poi dopo queste tre settimane faremo l'ultimo argomento che è quello dei file edizionari che poi l'ultimo argomento che l'ultimo l'ultima transito del corso che ci porterà poi fino praticamente al periodo sottonatale ok allora che cosa sono queste liste la lista è una struttura dati che permette di contenere più elementi al suo interno un contenitore di fatto contenitore di elementi che quindi ogni volta che voglio leggere e conservare dei dati questi li potrò memorizzare all'interno di un contenitore ad esempio un contenitore di tipo lista noi abbiamo già conosciuto dei contenitori che erano le stringhe ma le stringhe erano limitate perché erano contenitori di caratteri e basta non potevano contenere altre cose contenevano caratteri una lista invece è il caso più generale può contenere qualsiasi tipo di elementi in qualsiasi lunghezza con qualche diciamo così con qualsiasi tipologia negli altri linguaggi di programmazione questa struttura dati viene chiamata in modi diversi poi viene chiamata sequenze viene chiamata array viene chiamata vettore eccetera eccetera quindi se voi avete già conosciuto che ne so gli array o i vettori in c o in c++ in python questo è il concetto a cui fare riferimento è chiaro che in python si comporta in un modo leggermente diverso faremo vediamo la domanda di massimiliano faremo anche i set si dopo questo come insieme ai dizionari faremo anche i set ma nel blocco successivo allora creare una lista l'operatore per creare una lista sono le parentesi quadre le stesse parentesi quadre che usavamo per accedere ai caratteri delle stringhe quindi creare una lista significa semplicemente elencare i valori di cui questa lista è composta non mi viene la parola di cui questa lista è composta semplicemente elencandoli uno dopo l'altro separati da virgola e mettendoli dentro un paio di parentesi quadrate ovviamente il caso particolare è la lista vuota che contiene 0 elementi e che quindi si indica con aperta quadra e chiusa quadra quello è un contenitore che contiene degli elementi in questo caso questa lista values conterrà 1 2 3 4 5 6 7 elementi questi elementi a loro volta sono in questo caso di numeri interi casualmente potrebbero essere i valori qualunque in questo caso sono di numeri interi quando dichiaro una lista non devo dire né quanta lunga né quale tipo di elementi conterrà è tutto dinamico in python e quindi posso aggiungere elementi cambiare nel tipo eccetera ogni volta a cosa serve una lista vuota che mi chiede michele allora ti chiederei michele che cosa serve il numero 0 o che cosa serve la stringa vuota serve come elemento neutro serve come elemento di partenza per cui se posso quando devo fare la somma di tanti numeri devo avere un valore iniziale che sarà 0 quando devo aggiungere tanti elementi in una sequenza dovrò avere una sequenza iniziale che è vuota in questo caso la stringa vuota quindi è abbastanza fondamentale non è che non serva a nulla la lista accetta sia interi che float ma anche string ma anche altre strutture dati e così via adesso un elemento di una stringa può essere un qualunque valore di qualunque tipo adesso vediamo un po' di esempi e poi per accedere agli elementi della lista si accede nello stesso metodo con cui si accedeva ai caratteri delle stringhe con con l'operatore di indice quindi values di se i vale 3 sarà 0 1 2 3 il quarto elemento ovviamente gli indici anche qui partono da 0 come è giusto che sia e la grossa novità è che poi però posso anche modificare degli elementi all'interno della lista quindi vedete che io ho un values di uguale 0 quindi sto mettendo 0 in un certo in una certa posizione della lista ci arrivo alle vostre domande allora vediamolo con calma una lista è una sequenza di elementi ognuno dei quali ha è identificato da una posizione o da un indice al cui questo elemento può essere posizionato l'indice di una lista è sempre un numero intero numerato da 0 alla lunghezza della lista meno 1 al numero di elementi meno 1 ok posso accedere se io scrivo values è il nome della lista values di 5 è fa riferimento al sesto elemento della lista io questo sesto elemento della lista lo posso leggere stampare usare oppure lo posso modificare quindi in questo caso al sesto alla sesta posizione metterò il valore 87 che va a sostituire sovrascrivere l'elemento che c'era lì prima il valore che c'era lì prima qui c'è un esempio di una lista creata così vedete che questa lista l'ho creata mettendo dentro di numeri alcuni interi alcuni floating point non è un problema e mentalmente me la visualizzo così la variabile values è una variabile che fa riferimento a un valore di tipo lista ricordiamoci il ragionamento che facevamo nelle prime settimane variabili e valori le variabili non è altro che un nome che fa riferimento a un valore che sta da un'altra parte qui con le liste che sono la prima struttura dati di tipo mutabile con cui avremo a che fare questa distinzione tra variabile e valore diventa ancora più importante quindi dobbiamo averla chiara altrimenti qua si nascondono poi diversi errori di programmazione di tipo anche abbastanza subtro finora ce l'abbiamo come concetto ma non ci è servito moltissimo perché alla fine i numeri stringhe sono immutabili questo è l'esempio di una stringa che ho inizializzato con values così poi se io eseguissi l'istruzione values di 5 uguale a 87 cosa succede che il sesto elemento cioè quello di indice 5 che prima valeva 80 viene sostituito dal valore 87 quindi dentro una sequenza i numeri che ci metto non sono lì per sempre ma possono essere tranquillamente modificati ovviamente accedendo a questi singoli elementi per ogni singola indice le stringhe in qualche modo sono un po' simili alle liste anche una stringa una sequenza così come una lista anche una stringa posso anche una stringa posso accedere i singoli caratteri usando l'operatore parentesi quadra così come in una lista posso accendere accedere i singoli elementi la differenza è che una lista può contenere valori di qualunque tipo di qualunque tipo mentre invece le stringhe sono pensate fatte solamente per contenere caratteri l'altra differenza è che le liste sono mutabili mentre le stringhe sono immutabili come abbiamo già ripetuto più volte però questo ovviamente non mi vieta di fare di combinare le due strutture dati quindi posso avere una lista di interi che insomma questa è la lista dei mesi di meno di 31 giorni febbraio aprile giugno settembre novembre con aprile giugno settembre eccetera oppure una lista di valori reali o una lista di stringhe non c'è problema ogni singolo elemento sarà una stringa oppure una lista che al suo interno può anche contenere valori misti cioè questa lista contiene quattro elementi il primo è una stringa secondo un intero il terzo il terzo è un stringa quello di indice 3 senza questi sono i vari elementi fortunati che ho messo in una lista di tipo lucky il linguaggio python non ci limite in nessun modo sul tipo di elementi che possiamo mettere all'interno di una lista ogni elemento ha un valore a sé e quindi possiamo definirlo come vogliamo dal punto di vista della programmazione invece spesso è meglio evitare di mescolare i vari tipi all'interno della stringa perché se la stringa contiene informazione di un certo tipo probabilmente saranno tutte probabilmente dico di tipo uniforme no due domande che leggo nella chat salvatore mi chiede che la differenza c'è tra una lista e una tupla sulle tuple parleremo un pochino più avanti ma la differenza fondamentale che la tupla è immutabile mentre invece la lista è mutabile può essere modificata emilio mi chiede posso scrivere lista con due indici se una lista di stringhe si proviamo a scriverlo esplicitarlo prendiamo un interprete python che ho ad esempio qua quindi prendiamo nella console creiamo una lista di stringhe chiamiamola nomi e quindi nomi mettiamo trump all'indice 0 non a caso è biden ok e quindi abbiamo definito una lista che si chiama nomi qui ce l'abbiamo nel fianco indicata come nomi list 2.2 una lista di due elementi l'elemento di indice 0 è a sua volta una stringa che si chiama trump l'elemento di indice 1 è a sua volta una stringa che si chiama biden ok quindi se io scrivo nomi print di nomi mi scriverà la stringa la lista in questo modo quindi me la scrive quando io faccio print di una lista me la scrive semplicemente no elencando scrivendo usando la stessa sintassi che ho usato per crearla se io scrivessi invece estressi nomi di 0 mi darebbe una stringa come risultato così come nomi di 1 è una stringa come risultato ok quindi ho più stringhe e posso accedere a queste stringhe per posizione conoscendo la posizione una volta che il nome di 0 è una stringa so che è una stringa io posso prendere il suo primo carattere tranquillamente oppure il suo secondo carattere t di trump r di trump e così via perché a questo punto è una stringa non spaventatevi da questa sintassi è come se io avessi scritto primo nome primo underscore nome uguale nome di 0 e a questo punto primo nome chiaramente è una stringa e poi mi chiedessi qual è il primo carattere di questa stringa il fatto che si usa la stessa sintassi cioè la stessa parentesi quadre sia per accedere ai caratteri della stringa che per accedere agli elementi della lista non ci deve confondere in ogni caso è comunque un accesso per posizione a un elemento di una sequenza il nome di 0 0 mi da t effettivamente il nome di 0 0 mi da t come dice Massimiliano ok è possibile mi chiede Filippo definire una lista tramite input no non posso leggere una lista intera attraverso un'istruzione unica di input posso leggere però un elemento per volta in un ciclo in cui faccio input ogni volta e poi ogni volta aggiungerò l'elemento alla lista però mi serve a questo punto sapere come fare ad aggiungere elementi a una lista e quindi dobbiamo vedere un po' le operazioni che si possono fare con queste povere liste ovviamente quindi lo vediamo tra un paio di slide questo ovviamente l'indice deve essere un valore compreso tra 0 e la lunghezza della stringa scusate della lista no quindi se io in questo caso 1 2 3 4 5 6 7 8 elementi gli indici dovranno variare tra 0 e 7 se provo a cedere l'elemento 8 ovviamente non esiste quindi non me lo può fare né leggere né scrivere quindi né stampare né modificare in questo caso darà un errore che dice che l'indice è forte il valore una lista posso stamparla interamente come abbiamo visto oppure stampare un singolo elemento se stampo l'intera lista ci pensa la python a mettere la parentesi quadri e le virgole per elencarla la lunghezza della lista si usa la stessa funzione len che usavamo già per le stringhe cioè tutto quello che già conosciamo sulle stringhe si applica praticamente uguale alle liste e in più sulle liste ci sono delle operazioni aggiuntive che sono essenzialmente quelle per modificare i propri dati il proprio contenuto quindi len valeva sulle stringhe len vale anche sulle liste le parentesi quadri sono operatori di indicizzazione in questo caso può essere usato diciamo così in due modi diversi guardate la differenza tra questa e quell'altra qui sto prendendo il quarto elemento anzi il quinto elemento quello di indicia 4 di una lista che si chiama values qui invece con questo uguale in mezzo sto prendendo creando una nuova lista che contiene un solo elemento che è il numero 4 e sto rendendo values una variabile che fa riferimento a quel valore creo una nuova lista con quel valore quindi in certo senso questo uguale qua mi crea la lista prendendo una lista costante che ho indicato qua Angelica len di una lista restituisce il numero di elementi si restituisce il numero di elementi e quindi gli indici andranno da 0 a len meno 1 alla lunghezza della lista meno 1 così come già era per la stringa Matteo mi chiede come faccio a mettere una virgola all'interno di una lista beh allora innanzitutto la lista contiene dei valori se vuoi metterci un valore di tipo virgola sarà una stringhetta sarà un carattere quindi potresti scrivere una stringa che si chiama punteggiatura ad esempio che contiene i simboli di punteggiatura che sono la virgola il punto il due punti e che ne so il punto esclamativo e il punto interrogativo quindi attenzione che tutti questi caratteri sono a loro volta tra apici quindi sono piccole stringhe quindi questa punteggiatura sarà una lista che contiene vari elementi ciascuno di quali è una stringa e casualmente una di queste stringhe è proprio la stringa che contiene il singolo carattere virgola quindi non metto la virgola dentro la stringa dentro la lista metto una stringa che contiene la virgola penso sia questo ciò che volevi chiedere Cristian mi chiede se per stampare una lista la formattazione SEP vale per gli elementi no la formattazione SEP vale quindi mi sta chiedendo ma se io volessi stampare la lista nomi che è la cosa di Trump posso dire che io non li voglio separati da virgola ma voglio separati da un altro simbolo ad esempio SEP uguale trattino no no perché il separatore viene usato dalla print per separare i vari argomenti che lei sta stampando quindi se io stampassi i nomi e anche quell'altro che si chiama la punteggiatura allora la punteggiatura allora la funzione print avrebbe due argomenti nomi punteggiatura entrambi sono delle liste va bene e li separa con un trattino così ma il separatore viene usato per separare il primo dal secondo argomento della print se poi questo argomento a sua volta è una lista viene stampato normalmente viene stampato con questa sintassi parentesi quadre e virgole se vogliamo cambiare ovviamente impareremo come si fa non basterà fare un ciclo stampare un elemento per volta se fossero delle parole dovrei comunque mettere degli apici se dentro una lista metto delle parole queste parole ovviamente saranno stringhe e quindi come stringhe dovrò inserirli tra apici Alida mi chiede per sostituire un carattere una posizione all'interno di una stringa di una lista userò le doppie quadre no Alida non puoi sostituire un carattere all'interno di una stringa di una lista cioè prendiamo i nomi dei nostri presidenti se al posto della U di Trump volessimo mettere che ne so la A ad esempio noi non possiamo farlo non possiamo scrivere nomi nomi di zero e Trump la U è nella seconda posizione uguale A questo non lo posso fare perché perché una stringa non supporta la modifica dei suoi elementi perché alla fine questa qui è pur sempre una stringa e valgono le regole sulle stringhe quindi non la posso modificare ciò che potrei fare potrei fare modificare l'intero elemento nome di zero mettendogli l'altro nome e allora a questo punto ho modificato ma non ho modificato la stringa ho modificato la lista togliendo Trump con la U e mettendo al suo posto Trump con la Trump ok poi dunque fatemi vedere le vostre domande informatazione sullo split ne parliamo dopo Sabrina split e join sono due operatori per convertire da stringhe a liste e da liste a stringhe sono molto utili quando si analizza l'input però prima dobbiamo imparare a raggiungere gli elementi delle liste una lista di liste si può fare benissimo non è un problema se ci serve ovviamente a qualche cosa ma si può mettere se non mettiamo il separatore che cosa succede chiede su AVO non mette uno spazio ma mette una virgola virgola spazio non solamente spazio la print c'è modo di stampare senza stampare anche le quadre no con la print semplice no ma dovremmo fare un ciclo per stampare ci arriviamo ok se non fosse una lista se non fosse allora Alida se non fosse una lista potrei usare quella sintassi ti riferisci ti sei offesa con Python perché non ti ha fatto fare questo se non fosse una lista di stringhe si se fosse una lista di altre cose si ad esempio una lista di liste la potresti fare quindi il problema è la stringa non è la lista si 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 può fare quando faremo le liste di liste o strutture dati più complesse adesso la fine del corso metteremo insieme queste strutture dati ovviamente la regola è semplice dentro una lista può finire qualunque tipo di dati voi mi chiedete ma dentro una lista possono finire altre liste si le chiameremo tabelle ad esempio quando abbiamo liste di liste bidimensionali ok allora come facciamo a modificarle queste liste ad esempio per stampare una lista voi dite la voglio stampare non mi piace come la stampa lui allora stampiamocela noi se non ti piace come la print e stampa una lista te la stampi tu un elemento per volta così ci metti il separatore che vuoi tu e non ti lamenti che lui non ti mette il separatore che ti piaceva o che le parentesi quadri non le volevi eccetera eccetera come vabbè questa è una una sequenza di elementi di elementi puoi semplicemente fare un ciclo for e stampi un elemento per volta poi questi elementi li puoi stampare separati in un modo nell'altro con un carattere con l'altro a tuo piacere quindi puoi iterare sui singoli elementi della lista così come iteravamo abbiamo imparato ad iterare sui singoli caratteri di una stringa e poi facciamo ciò che vogliamo ovviamente conviene sempre usare range di length della lista così siamo sicuri che il ciclo viaggerà sempre tra 0 e la lunghezza meno 1 in questo caso possiamo stampare i singoli valori uno per volta e poi se volete stampare un separatore lo potete aggiungere qua a vostro piacere quindi la print che stampa una lista intera te la stampa con quella sintassi d e quella non la cambi non in modo semplice diciamo non la cambi invece se io voglio stampare il contenuto di una lista in un formato che voglio io posso sempre stampare uno per volta i singoli elementi e poi gli darò la formazione che preferisco e aggiungo i caratteri di separazione che preferisco ovviamente posso fare un range sugli indici adesso faremo qualche esempio ma posso anche usare il ciclo for che va for in che usavamo già sulle stringhe cioè un for non sugli indici bensì direttamente sugli elementi dell'array stesso quindi posso iterare sugli elementi dell'array senza esplicitamente usare un indice ma col costrutto for in che già conosciamo vado a pescare uno per volta già direttamente i singoli valori ovviamente se non mi serve conoscere l'indice quindi facciamo due esempi su questo poi andiamo sul concetto di alias che è un pochino più ostico ad esempio prendiamo a questo punto scrivo un programmino molto semplice prendiamo una lista che ne so di numeri che potrebbe essere appunto i mesi che erano febbraio abbiamo detto i mesi che non hanno trentun giorni quindi c'è un febbraio aprile giugno luglio agosto no settembre e novembre ok sono i mesi che hanno meno di trentun giorni è una lista come un'altra quindi noi sappiamo che se faccio print di mesi salta fuori questo scritto così noi vogliamo stamparlo con una separazione diversa voglio stampare uno per riga e allora potrò semplicemente stampare for mese in mesi print mese vedete che mesi l'ho chiamato plurale perché la lista è che contiene tanti elementi la variabile di controllo del ciclo invece l'ho chiamata singolare potrevo chiamarla come voglio i elemento valore ma a questo punto la chiamo con un nome che mi rappresenta effettivamente il suo contenuto e questo ogni volta che eseguo questo ciclo for la prima volta assumerà il valore 2 e quindi mi stampa 2 la seconda volta assumerà il valore 4 e quindi mi stampa 4 così via avendole messo come print in questo modo sono tutte una sotto l'altra se le voglio separare con un trattino potrò mettere come carattere di fine linea di fine print un trattino anziché la capo e poi aggiungere la capo una capo solo alla fine e quindi te li stampa tutti in questo modo adesso poi mi stampa un trattino in più al fondo che è antiestetico ma poi lo potremmo anche sistemare se io volessi invece leggere una stringa invece devo leggere un elemento per volta il problema è che per leggere un elemento per volta io devo partire una stringa vuota e quindi devo poterci aggiungere elementi adesso non abbiamo ancora conosciuto l'operatore per aggiungere elementi in una stringa quindi vi devo chiedere ancora un attimo di pazienza per l'operazione di input delle stringhe quindi il modo per stampare sempre le prende di quadra che vi dava fastidio è quello di stamparti i valori da solo non vuoi stampare il trattino finale perché ti dà fastidio beh allora devi sapere quando stai stampando l'ultimo elemento e per sapere quando stai stampando l'ultimo elemento devi per forza iterare sugli indici e non sul e non sul sui valori per cui a questo punto posso dire che se è l'ultimo elemento che sto stampando quindi print if i uguale l'end di mesi meno uno uguale uguale allora stamperò e vado a capo print mesi di altrimenti stamperò mesi di e poi il trattino e quindi dovrebbe stamparmelo così senza il trattino finale perché nel caso dell'ultimo elemento io ho potuto scoprire che era l'ultimo elemento perché ho fatto un ciclo for usando l'indice come variabile di controllo e non il valore come variabile di controllo quindi io sapevo se stavo stampando il primo il secondo il terzo e quindi potevo fare cose diverse nei vari casi Emanuele mi chiede se la string formattata funziona con le liste funziona con le liste sì nel senso che posso stampare una lista ad esempio la posso fare qua f apici i mesi sono due punti parentesi graffe mesi però mi becco la formattazione di default ovviamente quella con le quadre quindi lo posso inserire una stringa una lista dentro un f string se mi va bene la sua formattazione quella automatica se invece voglio la formattazione mia dovrò diciamo così andare a spacchettare i singoli elementi ok c'era una domanda prima di Emanuele che era ancora relativa al sostituire un elemento questo Trump con Trump lui diceva ma io in realtà potrei modificarlo allora rimettiamo veniamo solo a questa domanda rimettiamo nomi al valore iniziale ok stoppiamo ci siamo cosa è successo vabbè ho dovuto riavviarlo nomi uguale abbiamo detto Trump e Biden e dicevamo e tu dicevi Emanuele ma io questa U la posso modificare la posso modificare ad esempio con la funzione replace quindi io potrei dire nomi di zero punto replace la U con la A ok allora si può fare questo certo che si può fare nomi è una lista nome di zero è il primo elemento di questa lista il primo elemento di questa lista in questo caso è una stringa e quindi posso applicare tutte le funzioni della stringa lo posso fare poi vado a vedere nomi e vedo che non è cambiato perché non è cambiato perché mi devo ricordare che cosa fa la funzione replace la funzione replace prende una stringa la modifica e mi restituisce la stringa modificata senza modificare la stringa di partenza quindi per poterlo fare dovrò fare comunque nomi di zero uguale nomi di zero punto replace e qui è evidente che sto andando non a modificare il contenuto della lista quindi di quella stringa lì ma la sto sostituendo con una diversa quindi la regola generale c'è sempre l'unico modo per modificare una stringa è sostituirla con una diversa eventualmente ottenuta modificando quella precedente ma la stringa in quanto tale la perdo quella vecchia non viene modificata ma su questo qua torneremo bene quando faremo adesso diciamo così i vari modi di accedere con più nomi diversi in una stringa quindi il ciclo for lo possiamo usare sugli elementi di una lista così come lo usavamo sugli elementi di una stringa e dobbiamo sempre ricordarci perché qui la cosa diventa complicata se non facciamo attenzione di qual è la differenza tra il contenuto o il valore della lista e la variabile che ne fa riferimento allora questo è il modello mentale che abbiamo quando abbiamo scritto la prima lista scores uguale 1974 eccetera eccetera quindi una variabile che fa riferimento a un contenuto cosa capita se io scrivessi questa istruzione qua che è scritta in blu values uguale scores sto creando una nuova variabile che si chiama values e questa variabile nuova verrà inizializzata con il valore che attualmente ha scores e quindi in quel momento le due variabili questa e quest'altra faranno riferimento entrambe alla stessa identica lista sono due sinonimi infatti noi le chiamiamo alias alias è un altro nome per indicare la stessa cosa quindi facciamo attenzione che se noi copiamo una lista in un'altra stiamo in realtà creando un secondo riferimento alla lista precedente questo già succedeva con le stringhe l'abbiamo visto in python tutor non ci spaventa però le stringhe erano immutabili quindi che io facessi una coppia della stringa o che facessi due riferimenti che puntavano alla stessa stringa visto che quella non la potevo modificare poco cambiava invece con le liste questo non è più così bisogna fare attenzione quindi se lo vedessimo con python tutor vedremo che se io definisco e provatelo provateci un pochino a giocare una stringa una lista lui me la visualizza in questo modo questo è il nome della variabile questo è il contenuto il valore e la variabile fa riferimento a questo contenuto se io scrivo values uguale scores lui mi crea ovviamente una nuova variabile values il cui contenuto viene copiato inizializzato il cui valore scusate di questa variabile values viene inizializzato col valore della variabile precedente ma visto che il valore della variabile precedente era questa lista qui anche la nuova variabile assumerà il valore della lista nuova della lista esistente un nuovo nome per indicare la stessa lista quindi sono due sinonimi a tutti gli effetti se io ho il mio nome di trump dei presidenti e chiamassi i presidenti uguale nomi quindi faccio questa operazione qua vedete che ho due variabili entrambe fanno riferimento a una lista se io stampo presidenti mi stampa questa se stampo nomi mi stampa sempre questa ma possiamo avere l'illusione che siano due liste diverse con contenuti identici in realtà non sono due liste diverse con contenuti identici è una lista sola che ha due nomi diversi e me ne accorgo se io provo a modificare nomi di zero ci metto dentro Bush Obama mettiamo che è più recente stampo nomi vedrò ovviamente Obama e Biden ma se stampo presidenti che ricordiamoci non l'ho modificata presidenti ho solo modificato nomi ma se stampo presidenti anche presidenti è stata modificata quindi la posso chiamare ho due nomi diversi che in realtà fanno riferimento allo stesso oggetto allo stesso valore se modifico uno anche l'altro è modificato in realtà non dovrei dire così se modifico uno anche l'altro è modificato perché ce n'è uno solo non c'è l'uno e l'altro ce n'è uno solo che posso chiamare in due modi diversi ok se io però quindi che io qualunque operazione faccio sull'una vale anche sull'altra o meglio qualunque operazione faccio sul contenuto dell'una vale anche sul contenuto dell'altra che so non ci crediamo facciamo contrario presidenti di uno uguale appunto mettiamo Bush stampiamo presidenti mi stampa Obama Bush stampiamo nomi mi stamperà ovviamente Obama Bush questo è il meccanismo normale quando faccio il nome di una lista uguale a un'altra lista dove era il punto in cui ecco la l'istruzione chiave lista uguale lista mi crea sempre un alias alla lista esistente se io volessi potrei farne una copia in modo da mantenere le separate ma è un'operazione distinta per fare una copia devo usare questo costrutto list quindi ho una lista l'operatore list crea una nuova lista copiandoci dentro gli stessi elementi della prima quindi in questo caso ho due liste diverse distinte separate vediamolo qua vediamolo qua con i miei i miei presidenti siamo sempre a nomi a questo punto io posso fare presidenti uguale list di nomi e al primo colpo presidenti è uguale ma a questo punto io posso cambiare i nomi c'è il valore dei nomi che ne so il primo presidente adesso era Obama gli metto al suo posto gli rimettiamo Trump al suo posto e nomi di uno lo rimetto a magari Biden quindi ho modificato nomi nomi scusate ma presidenti non si è modificata quindi nel momento in cui perché non si è modificata perché nel momento in cui ho creato la variabile presidenti non l'ho creata facendo un alias di una lista esistente ma facendo una coppia di una lista esistente e quindi nel momento in cui faccio la copia le due copie vivono vite indipendenti vivono vite separate posso modificare l'una indipendentemente dall'altra ok la domanda di Angelo ma allora cosa serve fare gli alias se poi alla fine in realtà queste due variabili puntano sempre alla stessa lista e servirà quando passeremo le liste delle funzioni essenzialmente perché quando sono dentro una funzione io non posso accedere alle variabili che sono fuori dalla funzione e quindi passerò un alias il parametro della funzione riceve un alias dell'argomento quindi questo meccanismo lo usiamo fortemente quando avremo delle funzioni che usano delle liste altrimenti se sono sempre dentro la stessa funzione sono d'accordo anch'io che non abbia molto senso avere due nomi per accedere la stessa cosa però dobbiamo capirlo perché dobbiamo ricordarci di fare le copie se vogliamo perché se ci dimentichiamo di fare l'operatore list che crea una nuova lista scriveremo cose di questo genere e quindi pensiamo di lavorare con due liste diverse in realtà è una lista sola è una lista unica e quindi rischiamo di fare delle modifiche che non volevamo fare vabbè qui c'è un altro esempio volevo ancora farvi vedere un'altra cosa riavviamo questo così riparto con delle variabili pulite sempre con i miei nomi dei presidenti Trump e Biden abbiamo detto io so creare una copia chiamiamola così chiamiamola proprio copia copia è liste di nomi so anche creare un alias uguale nomi quindi se noi le stampiamo le guardiamo vedete qua a destra sembrano tutte uguali ma in realtà noi sappiamo che se io modifico nomi copia rimarrà immutata rimane così perché lei ormai una lista separata non ha più nulla a che vedere con quella di partenza mentre alias invece verrà modificata quindi noi l'abbiamo visto fare nomi di 0 uguale Obama e ho modificato nomi ovviamente nomi è stato modificato ma anche alias è stato modificato anche lui questo l'abbiamo già visto cosa succede se io adesso alias è un alias cosa succede se io adesso facessi nomi uguale bush scritto così scusate ho dimenticato le virgole se io scrivo nomi uguale bush chiaramente dentro la variabile nomi ci andrà a finire bush dentro la variabile copia scommetto al 99% anzi al 100% che la variabile copia rimane uguale il vero dubbio è la variabile alias che cosa prende? secondo voi la variabile alias se io batto invio qua e scrivo questa istruzione vale anche lei bush o continua a valere Obama Biden? allora se io faccio questa istruzione ricordiamoci alias punta alla stessa variabile di nomi sono la stessa ricordiamoci come l'avevamo disegnato sono così nomi e alias puntano allo stesso array di valori quindi se modifico l'una anche l'altra viene modificata attenzione che non è così se io modifico nomi uguale bush nomi l'ho modificato con bush ma alias è rimasto a quello che era prima perché perché questa istruzione non modifica la lista nomi questa istruzione crea una nuova lista bush e assegna alla variabile nomi il riferimento a questa nuova lista quindi la variabile nomi che prima puntava lì adesso punta là punterà da un'altra parte la variabile alias non si è accorta di nulla e quindi lei continua a puntare al valore precedente cioè questo uguale qui è l'operazione che usiamo per creare una nuova lista e assegnare una nuova variabile la assegniamo alla variabile nomi quindi la variabile nomi dimentica la lista a cui faceva riferimento prima e da adesso in avanti continua a lavorare inizia a lavorare con la lista nuova quindi nomi e alias non sono più alias l'uno dell'altro giustamente come dice Marco ormai ho separato l'alias l'ho spezzato quando assegno il nome di una variabile sto spezzando l'alias perché lo sto creando se vogliamo con questa nuova stringa se oggi stampassi alias come mi chiedete di fare ovviamente mi dà il nome vecchio se stampo nomi mi dà quello nuovo quindi dobbiamo ben tenere presente ben distinguere nella nostra mente e poi per questo ci vuole un po' di tempo per digerire questo argomento le operazioni che hanno effetto sulle variabili versus le operazioni che hanno effetto sui valori un'operazione del tipo variabile uguale modifica la variabile un'operazione del tipo nome di zero uguale modifica il valore della variabile senza modificare il riferimento alla variabile stessa ogni volta che assegno un'intera lista a una variabile io sto dimenticando il valore vecchio di quella lista quindi se quella era un alias con qualcun altro si perde si perde la comunanza e viene creata una nuova lista una nuova un nuovo dato in un certo senso c'è un po' che se io cercassi di disegnarlo vediamo se ce la faccio ok vedete la lavagna bianca quindi io ho fatto una prima variabile che ho chiamato nomi che faceva riferimento a una certa lista che conteneva due stringhe ok Trump e Biden poi ho scritto alias uguale nomi alias uguale nomi allora ho creato una nuova variabile che si chiama alias che punta qua alla stessa lista a cui faceva riferimento la variabile nomi quindi ricordiamoci che qua sono le variabili qua sono i valori l'operazione variabile uguale guardate questo uguale qui modifica una variabile in questo caso crea una variabile nuova quando io ho fatto copia qui scrivo l'istruzione che ho fatto copia uguale list di nomi in realtà ho creato prima di tutto list di nomi le segnazioni si partono sempre da destra list di nomi crea una nuova lista a partire dai nomi esistenti quindi crea una nuova lista nella quale ci mette la copia della lista a cui fa riferimento attualmente i nomi Trump e Biden e questa copia farà riferimento a questa nuova lista questa è la cosa più semplice ok poi quando ho fatto infine di nuovo nomi uguale matrice con cosa ci ho messo dentro Bush c'è una lista con Bush e qua ho creato una nuova lista che in questo caso contiene un elemento solo Bush e ho fatto in modo che la variabile nomi a questo punto puntasse qui e quindi non punta più là allora a questo punto si vede si vedono due cose vabbè tre cose una è ovvia che a questo punto nomi si contiene il valore di Bush ma le due cose più importanti erano che alias rimane invariata perché io non ho modificato il contenuto della stringa puntata da nomi ma ho modificato la variabile nomi stessa e a questo punto questa lista qua di dei due presidenti precedenti non ha più un alias cioè ha solo più una variabile che fa riferimento quindi si può accedere a quella solo in un modo in un modo solo se io rifacessi si è bloccata la condivisione ok adesso ci siamo di nuovo ok grazie ok allora dicevamo con questa operazione qui abbiamo scoperto che abbiamo creato una nuova lista abbiamo segnato la variabile nomi alla nuova lista e quindi di conseguenza nomi alias non sono più alias uno dell'altro rispetto del fatto che si chiami ancora alias e questa lista qui dicevamo non ha più due nomi diversi ma un nome solo che in questo caso è solamente alias copia continua a essere invece vivere continua a vivere di vita indipendente io l'ho creata come una lista nuova e questa è separata dalle altre qualunque cosa faccia con nomi con alias eccetera la lista copia vive la vita sua e la posso modificare solamente vedete che qua è una lista separata e quindi dovrei per l'unico modo per arrivare a modificare qui dentro è passare attraverso questa variabile copia non posso arrivarci da nomi non posso arrivarci da altro se io Filippo mi chiede se io rifacessi alias uguale nomi facessi ancora alias uguale nomi alla fine di tutto scusate non è alias o ma è alias ricreerei questo cancellerei questo e quindi avrei di nuovo alias e nomi che puntano entrambe alla stessa lista che questa volta è questa qua sotto e quella in alto che a questo punto non ha più nessuno che la guarda sparisce viene distrutta viene dimenticata da python viene buttata via viene automaticamente distrutta perché non c'è più nessun nome nessun alias che può accedervi e quindi tanto vale riciclare la memoria ok quindi noi dobbiamo con questo concetto con questo concetto che come vi dico lo 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 elaboreremo ancora perché attraverso gli esempi salterà fuori più volte però dobbiamo sempre chiederci ogni volta che facciamo un'operazione di modifica su una lista sto modificando la variabile o sto modificando il contenuto della lista quindi vedremo varie operazioni varie metodi di ciascuno dovremmo decidere dobbiamo avere ben chiaro che cosa sta facendo ok ok allora torniamo a condividere lo schermo se alias punta bush non ha valore bush sì dopo l'ultima modifica sì però queste cose qui vi consiglio di fare è farvi degli esempi e scemi e provarli con python tutor perché python tutor vi fa vedere queste freccioline che io ho disegnato male come evolvono istruzione dopo istruzione però per vedere qualcosa in più vediamo qualche operatore in più che agisca sulle liste vabbè una e tra l'altro adesso salteranno fuori lavorando sulle liste anche delle scorciatoie o degli operatori che ci serviranno anche con le stringhe o ci potevano anche servire con le stringhe una una scorciatoia molto comoda se vogliamo è gli indici negativi noi sappiamo che gli elementi di una lista vanno in questo caso una lista di 10 elementi gli indici vanno da 0 a 9 e quindi un numero maggiore di 9 cioè 10 ad esempio è sbagliato da un'eccezione quando lo uso però come caso particolare gli indici negativi non danno errore non danno errore ma contano dal fondo quindi l'ultimo elemento di una di una lista lo posso vedere in due modi diversi normalmente finora abbiamo sempre scritto così l'ultimo elemento di una lista è len di values meno 1 l'abbiamo scritto sulle stringhe ma abbiamo capito che il concetto è lo stesso quindi se è una lista di 10 elementi len di values vale 10 10 meno 1 fa 9 che 9 è proprio l'indice del decimo elemento una scorciatoia è semplicemente scrivere meno 1 meno 1 conta il primo dal fondo attenzione che quando conto dal fondo conta partire da meno 1 e non da 0 perché se no 0 sarebbe ambiguo e quindi i vari elementi vanno da meno 1 meno 2 meno 3 fino a meno 10 meno len quindi se ci serve per qualche motivo prendere l'ultimo elemento scrivere meno 1 o scrivere len meno 1 sono equivalenti o questo vale anche sulle stringhe ovviamente intanto l'operatore parentesi quadra si funziona nello stesso modo in entrambi i casi quindi questo potrebbe farci comodo ma che cosa ci posso fare sulle liste ecco l'operazione principale che non abbiamo ancora visto è come faccio aggiungere degli elementi allora aggiungere un elemento in una lista si può fare con un operatore che si chiama append append aggiunge append è un metodo che posso applicare a una lista e ha come argomento il valore dell'elemento da aggiungere all'interno della lista quindi qui finalmente possiamo capire come faccio a leggere i valori di una lista da input e perché mi serve la lista vuota se io voglio avere che ne so i valori dei mesi anziché scriverli in una costante leggerli da tastiera dirò all'utente inserisci i mesi e poi chiederò all'utente di inserire ogni volta un nuovo mese mese uguale int di input di mese e questo fin quando non mi inserisce il classico valore sentinella quindi ormai sappiamo già come si fa while mese diverso da zero e poi dovrò leggere ovviamente quello successivo e quindi io leggo un valore per volta questo lo sapevamo già fare ok leggo una variabile per volta se io queste variabili finora eravamo obbligati quando ero dentro questo ciclo while a leggere questo valore e farci subito qualcosa faccio la somma faccio il massimo lo stampo eccetera eccetera ma se io invece volevo semplicemente leggerlo e memorizzarlo in una lista per poi farci qualcosa dopo lo posso fare definire inizializzando una lista mesi che inizialmente non contiene nulla e poi dentro il ciclo appena ho letto un valore aggiungerò con l'append il singolo mese quindi questa lista parte vuota e ad ogni giro ad ogni ripetizione di questo while acquisisce un elemento in più e lo aggiunge in fondo quindi allunga ogni volta che faccio append si allunga di una posizione la lista stessa e io alla fine posso stampare i mesi proviamo a vederlo passo passo quindi ok sono bloccato qua inserisci i mesi vado avanti mesi uguale lista vuota quindi mi crea una lista di lunghezza zero che non contiene nulla poi vado avanti mi chiede mese io a questo punto scrivo 2 febbraio in basso a destra qua invio la variabile mese vale 2 adesso entro nel while perché mese è diverso da zero quindi ci entro dentro e qui c'è l'operazione chiave mesi adesso è una lista vuota mese è una variabile di tipo intero dopo l'operazione di append questa lista avrà un elemento in più aggiunto al fondo che è uguale al valore del numero intero che ci ha aggiunto quindi la vediamo qua questa lista da così diventa così da zero elementi cioè lista vuota a un elemento cioè lista che contiene il valore un valore cioè due il valore di indice zero è l'intero pari a due e poi itero posso andare avanti inserisco un altro mese che è aprile 4 sempre diverso da zero quindi il while continua e questo append ho la lista che vale 2 la vediamo qui se aggiungo anche questo sarà la lista che vale 2,4 e così via posso andare avanti a questo punto 9 11 poi metterò zero e mi stamperà 2,4,9,11 quindi questo è il modo per costruire una lista di cui vengo a scoprire un po' per volta i valori questo qua è una lista di interi ma se anziché gli interi avessi messo delle stringhe avrei potuto fare la lista dei nomi dei miei amici ad esempio l'append Alessia si può fare anche in una lista non vuota certo che si può fare infatti lo stiamo facendo quando io avevo una lista che aveva già l'elemento 2 ho aggiunto il 4 sto modificando la lista non sto modificando la variabile quindi una lista contiene già 100 elementi facciamolo in modo interattivo nomi il nostro nomi era Bush adesso nomi.append Obama e quindi nomi vale Bush Obama se ne voglio aggiungere ancora un altro append di Carter tanti anni fa e si aggiunge sempre così ok? quindi lo posso sempre fare non ho mai la dimensione massima di una lista una volta che ho una lista posso sempre aggiungere un elemento in più sulle altre domande che stanno arrivando come faccio aggiungere un altro posto che non sia all'inizio come faccio scambiare gli elementi ci arriviamo tra poche slide ovviamente sono tutte domande legittime append a un mestiere quello di aggiungere in fondo per aggiungere altre posizioni ci saranno altri operatori chiaramente come ad esempio insert che inserisce un elemento nella posizione che voglio io e quindi insert ha due parametri la posizione che voglio e il valore da aggiungere il valore da inserire e questo ho risposto in anticipo alla domanda di Lucia perché chiaramente il primo parametro è la posizione in cui voglio inserire l'elemento il primo parametro ricordiamoci è la seconda posizione attenzione non confondiamo e torno qua sul codice un'istruzione del tipo nomi di uno uguale mettiamo Trump poverino cosa fa nomi di uno uguale Trump sostituisce al posto di Obama uno è il secondo elemento ricordiamocelo l'indice uno è il secondo elemento al posto di Obama mette Trump invece se io facessi nomi punto insert di uno Trump inserisce Trump nella prima posizione e tutti gli altri li sposta avanti di uno quindi fa spazio li allarga vedete che adesso nella posizione uno c'era Trump ma Obama non l'ho cancellata l'ho spostato in posizione due e Carter che era in posizione due l'ho messo in posizione tre e così via il valore della posizione insert genera un errore quando è auto rende o può anche aggiungere in coda non lo so proviamo allora in questo caso per aggiungere in coda dovrei mettere nomi punto insert di insert di quattro prova lo fa quindi può anche avere come posizione la prima posizione vuota praticamente c'è il numero di elementi quindi insert lo posso anche usare per aggiungere in coda senza avere errori è chiaro che se provassi ad aggiungere un valore esagerato tipo 40 molto probabilmente prenderei no beh l'ha fatto lo stesso vabbè quindi lo aggiunge comunque in coda ma è una cosa che non consiglierei di fare perché è sicuramente poco chiaro ma visto che c'è l'append normalmente per aggiungere in coda usiamo append se invece voglio aggiungere davanti se voglio aggiungere per primo ovviamente non l'abbiamo fatto come esempi ma se io uso 0 come indice lo mette davanti a tutti quindi abbiamo chi ci manca qua bush padre l'abbiamo inserito davanti a tutti con indice 0 come indice 1-1 funzionerebbe lo stesso bisognerebbe andare a leggere o provare o andare a leggere la documentazione a a così a memoria non lo so onestamente bisognerebbe andare a prendere potremmo fare mesi mettiamolo qua insert ctrl q e dice inserisci l'oggetto prima dell'indice va bene vai a vedere sulla documentazione che mi dice insert vabbè niente il link non è clicco qua ma non mi dà la pagina giusta mi dà la pagina gramma ok niente lo andiamo a vedere se ci interessa però al volo al volo qua la documentazione me la dà un po' troppo sintetica inserisci prima ma non mi dice esattamente il dettaglio me lo direbbe qua potrei cerchiamo cerchiamo di andare a vederlo quindi gli array sono list test panel set mappi sono liste numeriche sì secolo qua sulle sequenze qui la chiama qui c'è un capitolo che chiama che si chiama sequenze nella documentazione di python che comprende vari tipi di sequenze tra cui adesso noi ci stiamo concentrando sulle liste e qui ci sono le varie operazioni sulle liste ma andiamo a vedere se c'è insert no non dice nulla nulla di più neanche qua ok va bene possiamo provarlo cosa succede ammesso che nomi di se a voi piace punto insert andare per scarico i valori strani x me l'ha inserito come penultimo come penultimo perché lo mette al posto dell'ultimo quindi sì Andrea ha indovinato il comportamento però ricordiamoci che un conto è sapere esattamente cosa fa la funzione un conto è scrivere del codice che sia facile da comprendere ecco quindi queste due cose sono diverse quindi a volte non ci interessa neanche andare a conoscere tutti i dettagli particolari di il comportamento di una funzione perché magari sì lo potremo sfruttare ma magari il codice diventa più difficile da comprendere ok andiamo avanti cercare un elemento se esiste cercare se un elemento esiste si può usare l'operatore in così come già facevamo sulle stringhe in questo caso friends è una lista di nomi che sono i nomi dei miei amici e vado a vedere se Cindy è tra i miei amici allora sì è mio amico oppure no esattamente come facevamo se una vocale ricordate se un carattere è una vocale no facevamo stringa di in a e o u quindi in questo caso lo possiamo usare esattamente nello stesso modo è chiaro che il valore che sto cercando il valore che sto cercando deve essere esattamente uguale a uno dei valori della string della lista allora in questo caso mi restituirà true se invece non è uguale almeno uno dei valori della lista restituirà falso ok se voglio sapere non solamente se c'è ma voglio sapere anche dov'è posso usare il metodo index e questo già anche sulle stringhe ce l'avevamo solo che sulle stringhe cercavo un carattere qua invece cercherò un elemento qualunque ok in questo caso mi dice chiedo se friends index emily qual è l'indice di emily all'interno della lista di amici ecco emily è in posizione 1 è in posizione 1 e quindi n varrà 1 se per caso l'elemento non viene trovato viene generato un errore ok viene generato un errore e in questo caso ricordate sulle stringhe c'erano due metodi index e find find cercava e non dava errore se non lo trovava mentre invece index dava errore ecco qua non esiste l'analogo di find e quindi bisognerebbe sempre controllare con in se l'elemento c'è e solo se c'è mi chiedo in che posizione si trova nel caso in cui ci sia il rischio che l'elemento non ci sia angelo mi chiede se si può usare i zapper no in questo caso no nel senso che lui cerca un elemento di un certo tipo all'interno di una lista dovresti se vuoi convertire tutti gli elementi della lista in maiuscolo allora poi puoi controllare con emily punto isapper anzi punto upper non isapper però gli elementi della lista devono essere a loro volta già messi in maiuscolo quando li ho inseriti quindi non posso dirgli cercami un elemento ma controlla se è maiuscolo o minuscolo no perché lui il find l'index oppure l'ing controlla l'uguaglianza dell'elemento e non l'uguaglianza di una funzione applicata all'elemento per rispondere a Savio che mi chiede come faccio cancellare gli elementi anziché aggiungerli e c'è pop che è l'opposto di insert che riceve la posizione di un elemento in questo caso la 1 cancella quell'elemento quindi in questo caso l'1 non c'è più e tutti gli altri vengono spostati avanti avanti di 1 quindi queste sono operazioni predefinite che ti danno le operazioni fondamentali aggiungo un elemento alla lista aggiungo un elemento in mezzo cancello un elemento in mezzo cerco se esiste un elemento cerco dov'è l'elemento poi Emanuele ovviamente dice sì però se non mi piace come funziona questo e giustamente mi aggancio alla domanda di Angelo se io voglio fare questa ricerca tenendo conto delle maiuscole minuscole Emanuele ti risponde giustamente fai un ciclo ti fai tu un ciclo while e vai a cercare gli elementi se ci sono a quel punto fai il controllo che vuoi tu puoi fare tutti i controlli che vuoi le funzioni predefinite danno un comportamento predefinito che è quello più naturale quello più semplice se non mi basta la regola generale mondiale se non mi basta il comportamento predefinito mi faccio io il mio codice andando elemento per elemento a fare la ricerca a fare la stampa ad aggiungere eliminare eccetera eccetera se a pop non forniamo elementi parametri forse o cancello il primo oppure d'errore non me lo ricordo di nuovo per rimuovere un elemento in base al valore e non alla posizione esiste un metodo esiste la possibilità di fare find e poi subito index e poi subito dopo pop forse c'è un metodo da remove ma non sono sicuro perché a volte mi confondo tra javascript e python perché hanno molte cose in comune un altro operatore e vi lascio solo più con questo sì su questo volevo ragionare per aggiungere degli elementi a una lista e l'operatore più sì suavo rispondo solo suavo che mi chiede se io ho fatto pop di un elemento chiaramente tutte le posizioni precedenti tornano indietro quindi bill che era la 5 adesso bill sarà la 4 quindi tutte le altre posizioni si decrementano dicevo l'ultimo operatore che volevo raccontarvi oggi nell'ultimo minuto che mi rimane è più più concatena due liste voi mi dite lo sapevo già facevo con le stringhe concatenare due stringhe e quindi mi dà la possibilità di prendere una stringa e aggiungere a questa stringa il contenuto di un'altra stringa è diverso da append append è diverso da append in due modi uno semplice e uno più profondo quello semplice è che append aggiunge un elemento solo mentre invece più aggiunge una lista intera ok quindi se io facessi nomi uguale nomi più un'altra lista che poteva essere abc adesso scusate ho finito i presidenti che mi ricordo a memoria df sto concatenando le due e quindi i nomi sarà una lista lunga in cui ho una lista unica che è ottenuta combinando insieme tutti gli elementi della prima lista nel loro ordine seguiti da tutti gli elementi della seconda lista nel loro ordine non c'è nessuna eliminazione gli elementi vengono copiati tali e quali se un elemento esiste due volte verrà riportato due volte non c'è problema quindi io posso avere la lista dei numeri che ne so pari uguale due quattro sei la lista di numeri dispari uguale uno tre cinque tre cinque quindi pari è così dispari dispari è uno tre cinque se io faccio pari più dispari quindi scriversi numeri uguale pari più dispari avrei tutti i pari e poi tutti i dispari non è che lui li mette in ordine o fa delle cose intelligenti prende quegli elementi e li aggiunge quindi nell'ordine in cui vengono trovati quindi scrivere pari più dispari scrivere dispari più pari mi dà ovviamente due liste diverse se ho due liste che contengono degli elementi simili sì questi vengono ripetuti vengono ripetuti due volte io come posso benissimo fare una lista come che la chiamo tanti due e sarà fatta da due 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 scusate ho messo i punti in segre le virgole mi è scappato il dito e e la posso fare così io posso addirittura fare tantissimi due ottenuta prendendo tanti due e aggiungendo di nuovo se stesso cioè non ho problemi gli elementi tantissimi due la lista li gestisce senza curarsi senza andare a vedere il loro valore se sono uguali se sono diversi se sono ripetuti eccetera se ci interessa vabbè lo possiamo ci ci dobbiamo pensare noi posso anche posso anche usare la moltiplicazione se voglio ma questo lo vediamo domani l'altra cosa che volevo dirvi però prima di lasciarvi anche se vi è sforato di due minuti è che se io faccio abbiamo detto pari più dispari se io faccio pari uguale pari più dispari lasciate perdere il nome è diverso dall'append perché sto modificando la variabile guardate la sintassi ho un'espressione che mi dà la lista concatenata e la salvo in una nuova variabile se questa variabile non esisteva prima la creo da zero se esisteva già prima butto via il riferimento precedente e metto quello nuovo quindi l'operatore più crea una nuova lista una nuova lista che poi posso assegnare una variabile esistente l'operatore append modifica una lista esistente e questa è una differenza come abbiamo detto prima dobbiamo fare attenzione perché se poi abbiamo degli alias che girano allora questo rompe l'alias spezza l'alias perché crea una nuova variabile mentre invece append non spezza l'alias ma lavora diciamo così sulla variabile sulla lista che già c'era non ne crea una nuova ok non vi tengo oltre questa sera perché abbiamo finito il tempo chiaramente riprendiamo questo questo argomento domani tante domandine tanti dettagli ci saranno ancora perché qui ovviamente diciamo ci sono molti operatori molte operazioni possibili in parte le conosciamo già ma dobbiamo capire come si combinano queste varie cose ok allora vi lascio andare perché siamo fuori tempo massimo ci vediamo domani mattina alla solita ora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti